Sì, partita dai molti volti, una partita che secondo me abbiamo approcciato anche abbastanza bene, siamo stati bravi come sapevamo perché il crottone è una squadra che sa giocare, ci siamo anche difesi con ordine secondo me nella prima parte di gara ripartendo con buona qualità, creando i presupposti per andare in vantaggio, gli episodi poi spesso nel calcio ti puniscono perché poi è l'occasione per fare gol clamorosa e quando poi la sbagli poi spesso vieni punito così è stato. Sapevamo di affrontare un avversario di grande qualità che se non gli vai uomo uomo come abbiamo fatto con più aggressività nel secondo tempo ha le qualità tecniche, il fraseggio per metterti in difficoltà, cosa che nel primo tempo hanno fatto gli avversari con buona qualità, noi un po' meno. Nel secondo abbiamo fatto una gara molto più aggressiva, una gara molto più propositiva, abbiamo alzato il tasso tecnico della squadra, cosa che ripeto spessissimo, quanti più giocatori di qualità in campo, quanto più è facile gestire la palla. È chiaro che il secondo tempo quando fai i cambi in Serie Cicciano, in Prota, questo tipo di giocatori, Simonetti, quando entrano questo tipo di giocatori è chiaro che diventa tutto molto più semplice ma che lo sia stata veramente la vittoria del gruppo, un gruppo straordinario perché quando sei sotto 2-0 il rischio poi di prenderli imbarcata c'è perché poi rischi di andare a recuperarla, prendere i contropiedi. Invece siamo sempre stati ordinati anche sul 2-2, la squadra ha voluto vincere ma con equilibrio e quindi penso sia il merito di come stanno lavorando questi ragazzi, di quello che stanno creando tra di loro perché davvero se lo spirito è questo, dico spesso, il giorno che riusciremo ad alzare la qualità ne abbiamo assolutamente bisogno. Io sono mai contento nemmeno oggi perché questa squadra può fare molto meglio, sono convinto che le basi sono queste, sono eccezionali, se cresciamo dal punto di vista della manovra e nella personalità del primo tempo allora siamo una squadra importante. Sono d'accordissimo, queste partite soprattutto quando sei sotto non le recuperi da solo, una squadra difficilmente ha la forza per farlo, nel girone sud che sto scoprendo questo è l'aspetto ambientale che fa la differenza, chi gioca in casa ha la possibilità di giocare veramente in 12, noi a volte giochiamo anche in 12 e mezzo, a volte in 13 grazie al nostro pubblico e oggi sono stati straordinari però ripeto deve crearsi questa alchimia, il pubblico si ostiene e la squadra che si fa amare, non è scontata, so che ho detto più volte partivamo da una posizione di svantaggio perché avevamo tante cose da farci recuperare per quello che era la stagione passata e credo che i ragazzi lo stiano facendo, sia chi è arrivato nuovo come me che ha tutto il massimo entusiasmo per farsi amare ma anche chi è rimasto da passata la stagione si è messo in escursione in una categoria inferiore con la voglia di rimanere quindi penso che questo sia uno degli aspetti più importanti che ci teniamo stretti, speriamo di gioire spesso sotto la curva perché poi vuol dire che avremmo fatto il nostro dovere e sono convinto che poi il pubblico di Benevento anche se dovessimo incappare in un risultato sfortunato spero il più lontano possibile ma con questo atteggiamento e questo spirito sono convinto che anche in quel caso ci applaudirà. Sono d'accordo, è una carta che dobbiamo tenerci strettissima perché sia perché mi permette di dare imprevedibilità alla manovra e quindi non dare punti di riferimento agli avversari ma al tempo stesso puoi dimettere in campo i giocatori più funzionali e più in forma del momento e quando hai giocatori come questi sia in campo che dalla panchina ma io basta pensare a chi non ho fatto fare un minuto oggi, giocatori come Masciangelo, giocatori come Ciciretti al dire della condizione, giocatori come Kubiz, Alfieri, sicuramente dimentico qualcuno. È chiaro che quando hai una rosa di questa qualità sarebbe limitante secondo me utilizzare un suo sistema di gioco sia perché rende prevedibile la manovra degli avversari che perché tante volte non permette ai tuoi giocatori di essere nella posizione congeniale per renderla al massimo. Io questa fortuna ce l'ho, me la tengo stretta, ripeto oggi è la vittoria dei calciatori e del pubblico come abbiamo già detto ma soprattutto dei calciatori perché hanno fatto una prestazione gagliarda, hanno fatto una prestazione di grande qualità soprattutto dal punto di vista individuale e quindi mi penso la vittoria più che mia, più che dello staff tecnico sia veramente dei calciatori perché hanno fatto una prestazione eccezionale dal punto di vista individuale. Sì, più che minotaggio sinceramente mi aspetto delle risposte, mi aspetto delle risposte da chi magari in questo momento per mille vicissitudini ha trovato meno spazio e spinge per trovare spazio. Quindi è chiaro che poi qualche situazione, penso a ragazzi, penso a qualche giocatore che ha avuto problemi fisici, qualcosa dobbiamo concedere quindi lì veramente una questione di minuti ma per l'aspetto generale l'obiettivo sarà a passare il turno. Quindi noi vogliamo passare il turno, non è una partita, non è amichevole, è una partita precampionato, l'obiettivo è passare il turno. E ripeto, mi aspetto da tutti i giocatori che giocheranno, può essere che magari giocherà qualcuno che in questo momento ha trovato meno spazio, mi aspetto delle risposte, mi aspetto della voglia di far vedere che la prossima di campionato la possono giocare perché ne hanno la possibilità, ne hanno la facoltà, mi possono mettere in grande difficoltà, non a chiacchiere come spesso accade nei spogliatoi, qui per fortuna pochissime volte, ma con i fatti. È una partita in cui mi aspetto delle risposte, fermo restando che l'obiettivo non è sperimentare, non è dar minutaggio ma passare il turno.